Entro settembre alvia il nuovo cantiere per la realizzazione delle case di espansione del fiume Segno, intervento atteso da anni per la messa di sicurezza dei territori attraversati dal corso d'acqua, dalle colline feintine fino alle pienure della bassa Romagna. I 270.000 euro necessari per avviare i cantieri sono stati confermati all'interno del piano di difesa del suolo approntato dalla regione Emilia-Romagna. A fianco del piano di prevenzione sono previsti una serie di interventi in risposta ai danni prodotti dal maltempo tra il 2017 e il 2018. Saranno 700 in tutti i cantieri dell'intera regione per un investimento di quasi 147 milioni. Nel Ravennate saranno destinati circa un milione di euro. A Castel Bolognese e a Feenza sarà ripristinata l'ufficiosità dell'alveo del torrente Segno, verrà ricostruito un argine e si riprenderanno le frane che interessano le sponde del corso d'acqua. Nel territorio di Riolo Terme inoltre verranno rimossi tronchi e alberi riversi nel letto del fiume. Abbiamo messo adesso 146 milioni di euro che partono per complessivi 700 interventi e questo vi dà la misura dell'impegno che questa regione mette per garantire il massimo di contrasto al dissesto idrogeologico e dall'altra abbiamo presentato al governo un pacchetto da altri 180 milioni di euro. Non c'è ancora risposta ma mi auguro che presto possa arrivare. Inviterò anche il ministro Costa in regione presto per fare un punto della situazione perché vogliamo collaborare al massimo con il governo e qualsiasi ministero. Certo è che noi abbiamo le idee chiare e un piano di programma molto preciso costruito insieme ai territori. Detto questo il tema di intervenire rispetto a situazioni laddove lo Stato da solo non riesce abbiamo detto che trova la nostra massima disponibilità come peraltro abbiamo sempre cercato di fare. Quindi adesso partirà un copioso investimento nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. che darà una mano a ricucire ferite del territorio o a lavorare anche molto in prevenzione. Sapete che crediamo serva prevenzione non solo interventi in emergenza. Dall'altra parte saranno tantissimi cantieri e quindi permettetemi in un momento di recessione è anche un contributo all'economia del territorio. Peraltro sono per gran parte piccoli e medi cantieri che troveranno immagino che possono trovare soddisfazione anche dal punto di vista delle imprese del territorio e dell'economia del territorio. Tanti cantieri si apriranno nel 2019, un piano di messa in sicurezza del territorio anno 2019 quindi che prosegue l'impegno importante degli scorsi anni e che programma interventi sia di ripristino o di risposta a situazioni ancora di danno che sono aperte da stati di emergenza nazionali piuttosto che da eventi climatici territoriali e che quindi risponde a tutte queste criticità in particolare guardando anche alle emergenze del 2017 e del 2018 e dall'altra parte però accanto a questi la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria sapete abbiamo raddoppiato le risorse anche quest'anno nel 2019 in bilancio come per il 2018 e anche a interventi strutturali che sono pronti per diventare cantiere quindi un pacchetto di oltre 700 interventi fra piccoli, medi e grandi un pacchetto di oltre 147 milioni di euro di cui 38 milioni sono riferiti a risorse nazionali recentemente messe in disponibilità su cui abbiamo costruito un piano in tempi record di 20 giorni che coinvolge 159 comuni, quindi tutti quelli danneggiati dagli eventi climatici da metà 2017 fino alla fine del 2018 in particolare 38 milioni a cui si affiancano altri 11 milioni, altri 134 interventi che abbiamo già programmato siamo già pronti per inviare al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile appena verrà deliberata l'intesa Stato-Regioni che ormai è imminente però ci siamo preparati perché questi cantieri riescano davvero a partire, ad aprirsi tutti entro il primo di settembre a diventare quindi operativi e una risposta puntuale in tutta la nostra regione accanto agli interventi al fiume Segno, a Faenza saranno abbiati i cantieri per il fiume Lamoni che provvederanno alla rimozione e al taglio di alberi ritenuti pericolosi e alla sistemazione delle sponde del fiume erose dall'acqua da Errano a Ponte Castellina a Brinsighella si ripristinerà la scarpata monte a valle della Pideura a caso la valle Segno sarà ripristinata via Torre a Riolo Terme verrà ripristinato il versante della frana di via Campidello a Ravenna sono in programma lavori urgenti di messi in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici a seguito degli eventi meteorologici del 28 giugno 2017 e 10 agosto 2017 interventi anche al mar per la copertura della Luggetta in Darsena e nei Lidi a seguito dei danni prodotti dal maltempo nel giugno del 2017